Eccoli con noi! Bene, bene, bene! Ciao Elisa, ciao Fabio, ciao Novine, Donino! A te velocemente perché attendiamo il loro concerto e partiremo in oriario! Super veloci perché ci vogliamo godere questo bellissimo concerto, sono orgogliosi di voi, orgogliosi della nostra città che sta tirando fuori tanti talenti e voi siete, diciamo, la massima espressione in questo momento della nostra musica. Grazie veramente per tutto quello che avete fatto. Allora, gli consegniamo un riconoscimento, un'opera d'arte, un'opera pittorica della nostra città, mi sembra un gesto dovuto per quello che hanno fatto e per quello che hanno saputo rappresentare. Eh? A Elisa Bucci. 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie mille! Grazie per la visione! Grazie! 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 mesi passati ci siamo resi conto che qualsiasi cosa, dicevamo, veniva sempre recepita. Partono giù gli applausi. Perché? Perché, tecnicamente parlando, le cose che dicevamo erano delle... delle... cazzate. Così, con amore e con affetto. E abbiamo generato degli hashtag, ovvero dei classici cancelletto. Cancelletto, no? Quello che cancellano tra... bene. Abbiamo creato quindi hashtag... a tuta callara. Hashtag... grande. Hashtag beautiful for you. Ma anche hashtag... trombe. Che sono degli strumenti a cui noi siamo molto affezionati e che, insomma, tutti questi hashtag li creavamo nei nostri amati, fantastici, incredibili video... grandissimi. E noi vogliamo fare un video di ieri anche qui, sul parco di Aprilia. Quindi... aiutateci a dire un bel video di ieri anche qui. Abbiamo invece il finito da parte di... da... ciao. E quindi, andiamo qui, andiamo in mezzo alla folla. Andiamo qui. Grandi tutti. Altre, diciamo tutti ansiemi, video diari. Pronto da avere questa con il rec. Quindi, uno, due e tre... video diari! Più luce, più luce, più luce! A tre! A tuta callara! A tre! Uno, due, tre! A tuta callara! Ciao! Siete bellissimi! Bella! E adesso, il pezzo con la quale abbiamo, diciamo, iniziato la nostra avventura a X Factor, il pezzo della prima puntata che è Don't Wait di Mapei. Grazie! Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti